Qui è il palazzo della regione Lombardia, Milano, forum della comunicazione e ho pensato quale occasione migliore per comunicarvi questa cosa. Io l'anno scorso ho avuto a Iros un'esperienza fantastica, ho conosciuto persone meravigliose, start-up per investitori, giornalisti, personaggi molto particolari e chi c'era sa di chi sto parlando. E niente, quindi mi hanno invitata, cosa faccio non torno? E' certo che torno, torno con ben due bootcamp, non uno breve come l'anno scorso che eravamo troppi, in troppo poco tempo. Quest'anno c'è tempo per approfondire, ci saranno tantissime novità, le so tutte perché c'è anche un'altra piccola novità. Io e Mantegazzini modereremo, vivacizzeremo gli eventi, i padel con questi ospiti internazionali. Ospiti internazionali che, poveri loro, non sanno che a settembre a Maratea si può fare il bagnetto, quindi loro verranno probabilmente in giacca e cravatta e resteranno lì con l'aria condizionata, da sfruttare fino all'ultimo. Quando avrete finito con loro, ci andiamo a fare un bagnetto tutti insieme. Quindi, miei cari, a settembre, Iros, Miti Maratea, bootcamp di Happy Speaking con me per fare il pitch perfetto. Io vi aspetto ed sarà fantastico. Ciao!